Il titolo della lettera pastorale, Un solo pane e un unico corpo, è tolto da un brano della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Il contesto che sta sullo sfondo di questa espressione è generalmente la condizione nella quale vive la comunità cristiana di Corinto. È una comunità lacerata da divisioni e San Paolo vuol condurre i suoi destinatari a riscoprire il principio e il fondamento dell'unità. E questo consiste nell'Eucaristia, che è, come dice San Paolo, comunione con il sangue e con il corpo di Cristo, dove il termine corpo assume un duplice significato, lasciando intravedere un passaggio dal corpo eucaristico al corpo ecclesiale. Se questo è vero è perché all'origine di quella comunità, simbolo dell'umanità nuova, sta una vita donata. C'è quindi un collegamento tra l'Eucaristia e la passione. Tutti i dipinti che sono stati scelti per illustrare in vario modo la lettera pastorale sottolineano questo legame. Eucaristia, passione di Cristo. Sappiamo molto bene che le opere d'arte hanno un valore performativo, hanno cioè la capacità di suscitare ammirazione estetica, con il significato particolare che ha l'aggettivo estetica. vuol dire che porta fuori da sé e introduce in una realtà che non appartiene all'ordinaria esistenza. Questi dipinti erano pensati non tanto per gli storici dell'arte, bensì in funzione estetica. E questo sta a significare che ancora oggi guardare questi dipinti vuol dire essere ricondotti alla radice di una concezione dell'esistenza umana. E questa concezione trova la sua espressione più emblematica nel dipinto di Antonello da Messina che sta sul frontespizio della lettera pastorale e che è anche qui riprodotto. Ecce homo. L'espressione che si trova nel Vangelo di Giovanni nel racconto della passione precisamente nel contesto del dialogo tra Gesù e Pilato. Quando Antonello da Messina presenta Cristo riprendendo il Vangelo di Giovanni come l'uomo vuole indicare a noi portati all'ammirazione estetica che la realizzazione della persona sta nella dedizione. Nella dedizione di Gesù alla quale si è configurati proprio mentre si partecipa del suo corpo. la persona riuscita l'uomo è allora la persona che ha passione per l'unità una unità che si dilata e che diventa principio di una comunione che si cerca al di là dei confini della comunità cristiana una comunione che vorrebbe raggiungere l'umanità intera. il quadro sul quale si fisserà tra un attimo il nostro sguardo quello del moretto è qui per un gesto che l'amministrazione comunale ha voluto compiere. noi sappiamo che i gesti assumono un valore in se stessi al di là dell'intenzionalità di coloro che li compiono. Non sempre nei gesti c'è una consapevolezza esplicitata. A me pare che un dipinto ormai da tempo depositato nella pinacoteca comunale messo a disposizione dal comune in una chiesa di proprietà del comune diventi una provocazione non solo per i cristiani bensì per tutti i cittadini per coloro che attraverso il quadro rileggono un momento della storia di questa città affinché capiscano che la passione per l'unità è la condizione per costruire la città di una chiesa di una chiesa di una chiesa di una chiesa